Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro a quel video. Nel tessuto ordinario della quotidianità si cela talvolta un lato oscuro dell'essere umano, l'ossessione. Un'attrazione irreferenabile per un obiettivo, talvolta alimentata dalla ricerca ossessiva del successo, può spingere alcuni individui verso gesti estremi e impensabili. Questo desiderio incrollabile di raggiungere un fine può trasformarsi in una spirale discendente, dove le linee tra moralità e crimine diventano labili, portando a conseguenze tragiche e imprevedibili, come nel caso che affronteremo oggi. È l'inizio del 2015 a Mount Pleasant, una città degli Stati Uniti capoluogo della contea di Titus, in Texas. Qui vive Ernie Ibarra, un giovane di 29 anni, nato il 25 dicembre 1985. Sua madre Rhonda e suo padre, Ernest Senior, lo hanno cresciuto insieme al fratello Jim e alle due sorelle di nome Tiffany e Abigail. Ernie ha vissuto un'infanzia serena, secondo sua madre era un bambino molto disponibile e altruista. Sempre pronto ad aiutare il prossimo senza aspettarsi nulla in cambio. Ernie è anche molto intelligente, si è sempre comportato in modo esemplare a scuola e ama leggere. È il suo passatempo preferito. Tanto che a un certo punto sua madre aveva dovuto vietargli di leggere prima di andare a dormire. Altrimenti Ernie avrebbe passato tutta la notte immerso nella lettura e si sarebbe addormentato durante le lezioni a causa della stanchezza, cosa che a volte era capitata. Ernie ama profondamente anche i computer. Desidera capire il loro funzionamento e come sono assemblati. Questo lo spinge a seguire un corso di tecnologia quando giunge il momento di andare al college. Il suo interesse per i computer lo porta naturalmente a sviluppare anche una passione per i videogiochi. Ernie è una persona molto creativa ma caratterialmente piuttosto timido, tranquillo e introverso. Nel gennaio del 2008, all'età di circa 23 anni, incontra una giovane donna di nome Samantha Walford, più giovane di lui di 4 anni. Samantha, nata il 28 agosto 1989, ha una sorella di nome Natasha e un fratello chiamato Daryl. Viene descritta come una ragazza molto frizzante, estroversa e socievole. Ama prendersi cura degli animali e inizialmente sogna di diventare veterinaria, anche se questo desiderio subisce una svolta quando scopre che il lavoro può comportare decisioni difficili come quella di dover abbattere un animale. È anche una giovane molto loquace, primulosa e dal forte istinto materno. Samantha ha sempre desiderato diventare madre e questo suo sogno si avvera molto presto. Infatti, all'età di soli 18 anni, rimane incinta del suo fidanzato del liceo e dalla luce due gemelli. La ragazza è molto felice di avere due bambini ma dopo il parto iniziano a comparire le prime crepe nella relazione con il suo fidanzato. Quest'uomo si rende conto di non volersi assumere la responsabilità che comporta il diventare padre. Di conseguenza decidono di concludere la loro relazione e dopo questa separazione lui si allontana sia da lei che dai bambini. Così Samantha si ritrova ad essere una madre single, veramente giovane e affronta molte difficoltà nel provvedere ai suoi figli. Tuttavia le cose prendono una svolta positiva quando all'inizio del 2008 incontra Ernie. I due si conoscono online, iniziano a chattare su Facebook finché nel gennaio del 2008 decidono di incontrarsi per la prima volta di persona nello studio di un tatuatore. Fin da subito si trovano molto bene insieme anche se in realtà sono molto diversi. Ernie è una persona abbastanza tranquilla, timida e introversa mentre Samantha è l'esatto opposto, molto aperta ed estroversa. In pratica rappresentano perfettamente il detto, gli opposti si attraggono. Si frequentano per un paio d'anni, poi nel 2011 Samantha scopre di essere nuovamente incinta e ancora una volta aspetta due gemelli. Ernie si dimostra essere un padre eccezionale, non solo per i suoi due figli biologici, ma anche per i due figli maggiori di Samantha avuti con il suo fidanzato del liceo. Ernie diventa una figura paterna anche per loro, tanto che comunica a Samantha ha il desiderio di volerli adottare legalmente per diventare a tutti gli effetti loro padre. In generale il loro rapporto sembra procedere bene, a eccezione di un periodo in cui si erano lasciati ed Ernie si era trasferito altrove per dare un po' di spazio sia a se stesso che a Samantha. Alla fine i due tornano insieme e nel 2013 Samantha rimane nuovamente incinta. Il loro quinto figlio nasce verso la fine dell'anno, portando la loro famiglia a contare ben sette persone. Ernie lavora duramente per provvedere alla sua numerosa famiglia. Di giorno presso di Bat, un'azienda che produce e vende mazze da baseball e di sera in un ristorante e pizzeria chiamato Little Caesars. Samantha invece è una casalinga, si prende cura dei bambini e della casa mentre Ernie è al lavoro, ma spera di contribuire al reddito familiare guadagnando qualcosa grazie a un canale YouTube che ha aperto di recente, chiamandolo Simply Manic. Su questo canale posta diversi contenuti, blog settimanali, tutorial sul trucco, video dove parla delle sue gravidanze e della sua vita da mamma. Da spesso consigli alle altre mamme e in un video in particolare spiega perché avere un figlio da adolescente sia molto molto difficile. Spera di raggiungere la popolarità e di guadagnare un po' di soldi grazie al suo canale. Per questo motivo si impegna parecchio e pubblica video molto frequentemente. Ernie appare nei suoi video solo occasionalmente, non ama molto il mondo dei social. L'anno successivo, alla nascita del loro quinto figlio, la coppia decide di sposarsi. I due diventano quindi marito e moglie. Sembrano entrambi molto felici, almeno fino all'inizio del 2015, quando il marito di Samantha viene aggredito e rapito nel cuore della notte. Sono le prime ore del mattino del 20 febbraio 2015, quando Rosie riceve una chiamata da sua figlia Samantha, mentre è fuori casa insieme con Natasha, la sorella di Samantha. Rosie percepisce subito il panico nella voce della figlia. Samantha piange e urla, dice a sua madre che è legata, non può muoversi. Qualcuno è entrato in casa e ha rapito Ernie. Così anche Rosie viene assalita dal panico. Lei e Natasha tornano velocemente alla macchina e si dirigono verso casa di Samantha. Sono però a circa un'ora di distanza e devono sbrigarsi a raggiungere Samantha, perché è nei guai. Rosie quindi contatta sua sorella Ginger, la zia di Samantha, che vive a soli 10 minuti di distanza. Ginger e suo marito si dirigono verso casa di Samantha, mentre chiamano i servizi di emergenza e arrivano alla casa prima delle autorità. Entrano immediatamente e iniziano a chiamare Samantha a gran voce. La trovano al piano di sopra, sul pavimento della camera da letto, bendata. Le sue mani sono legate dietro alla schiena e anche le caviglie sono legate insieme. Sta singhiozzando, è così spaventata. Ginger e suo marito la liberano e poco dopo la polizia arriva sul posto. Gli agenti controllano che Samantha non sia ferita e si accertano anche delle condizioni di salute dei figli della donna. I bambini stanno bene, stavano dormendo durante l'accaduto e, dato che fortunatamente non si sono svegliati, non si sono accorti di nulla. La polizia ispeziona la casa e riscontra segni di una violenta collutazione. Il vetro della porta d'ingresso è in frantumi e i poliziotti notano anche un ciuffo di capelli sul pavimento. Al piano di sopra è presente del sangue su un muro danneggiato, come se qualcuno fosse stato spinto contro di esso con violenza. Lo stato della casa indica chiaramente che ha avuto luogo un'aggressione molto violenta contro Ernie, che ora è scomparso. Samantha è convinta che sia stato rapito, quindi la polizia sa che deve agire velocemente per ritrovarlo, nella speranza che sia ancora in vita. Hanno dunque bisogno di ottenere maggiori informazioni da Samantha, che sembra essere l'unica testimone del rapimento di suo marito. La accompagnano quindi alla stazione di polizia, dove ripercorre gli accadimenti di quella terribile notte. Samantha afferma che il 19 febbraio, il giorno prima, era andata in ospedale per fare visita a un'amica, che aveva appena partorito. Tornata a casa, lei ed Ernie avevano trascorso una serata come le altre. Dopo aver preparato la cena, avevano mangiato tutti insieme davanti alla tv. Poi avevano messo a letto i bambini e poco dopo erano andati a coricarsi anche loro. Tuttavia, non molto tempo dopo essersi addormentati, poco dopo l'una di notte, i due avevano sentito improvvisamente dei colpi provenire dal piano di sotto. Era il rapitore che stava sfondando la porta principale per entrare nella proprietà. Samantha racconta che a quel punto tre uomini sconosciuti erano entrati nella camera da letto sua e di Ernie. Avevano strappato via il piumone e li avevano trascinati fuori dal letto. Due degli uomini avevano costretto Ernie a scendere le scale, mentre il terzo l'aveva gettata sul pavimento della camera da letto e le aveva puntato un coltello alla gola. Samantha afferma che dal piano di sotto sentiva le grida di Ernie e dei due uomini. Non capiva cosa stessero dicendo, riusciva solo a sentire delle urla e dei rumori che le facevano capire che suo marito veniva picchiato. Successivamente l'uomo che le puntava il coltello alla gola l'aveva trascinata al piano di sotto, posizionandola proprio di fronte a Ernie, che era a terra. Samantha sostiene che hanno fatto questo per ridicolizzare Ernie, dato che poi hanno continuato a picchiarlo di fronte a lei, usando anche il calcio di una pistola per colpirlo alla testa. All'inizio Ernie aveva tentato di difendersi e reagire, ma dopo essere stato picchiato così duramente non aveva più la forza e le energie per continuare a difendersi. Era diventato inerme. A quel punto uno degli uomini gli aveva tagliato una ciocca di capelli e li aveva gettati sul pavimento. Gli uomini poi avevano detto a Samantha questa ciocca è tua perché è tutto quello che potrai avere per ricordare tuo marito. La ciocca di capelli trovata dalla polizia appartiene quindi alla vittima. Samantha poi afferma di essere stata trascinata di nuovo al piano di sopra da uno degli uomini che poi gli aveva legato le mani dietro la schiena, le caviglie insieme e l'aveva imbavagliata per poi lasciarla lì da sola. Successivamente i tre uomini avevano portato via Ernie. Samantha in quel momento aveva provato ad afferrare il suo cellulare nella tasca dei pantaloni, aveva usato il naso per premere i tasti del telefono ed era riuscito a chiamare sua mamma Rosie. Per quanto riguarda l'aspetto dei tre uomini purtroppo Samantha non può dire molto alla polizia perché erano coperte dalla testa e i piedi con indumenti scuri, indossavano anche una maschera e dei guanti. Quindi Samantha non sa assolutamente quale sia il loro aspetto a giudicare dal loro accento però crede che uno sia afroamericano e un altro ispanico. La donna dice inoltre alla polizia di avere la sensazione che il padre di Ernie potrebbe avere qualcosa a che fare con il rapimento di suo marito. Non crede che l'uomo abbia rapito suo figlio ma pensa che potrebbe avere a che fare con il motivo del rapimento in quanto l'uomo in passato è stato coinvolto in attività criminali inerenti le sostanze e ha avuto guai con la legge. Magari doveva dei soldi a qualcuno che ha deciso di vendicarsi aggredendo e rapendo suo figlio. Samantha afferma questo anche perché quando i tre uomini che erano entrati in casa quella notte erano in procinto di andarsene con Ernie uno di loro aveva detto forza ora andiamo a casa di tuo padre. Alcuni agenti vengono mandati immediatamente a casa di Ernest Senior ma quando arrivano non c'è alcuna traccia di Ernie o dei tre uomini. A questo punto la polizia arriva alla conclusione che ciò che è successo a Ernie probabilmente non aveva nulla a che fare con suo padre. È vero ha avuto problemi con la legge ma sono vicende che fanno parte del suo passato ormai è sulla retta via da molto tempo e pare che nessuno sia interessato a vendicarsi di lui. La polizia prova allora a rintracciare Ernie tramite il suo cellulare dato che non è stato trovato in casa pensando che forse i rapitori lo avevano rubato e portato con loro. Riescono a stabilire che il cellulare si è agganciato a una cella di Pittsburgh in Texas che si trova a soli 20 minuti dalla casa di Samantha e Ernie. Così i detective si recano lì ma non trovano nulla. Decidono quindi di proseguire con i tentativi ma stranamente subito dopo il telefono risulta spento quindi non più rintracciabile. A questo punto i detective hanno qualche dubbio sulla storia di Samantha. Ci sono alcuni aspetti della sua versione di quella notte che non quadrano del tutto. Sono scettici e iniziano a nutrire dei sospetti nei suoi confronti. Samantha ha affermato di aver usato il naso per premere i tasti del telefono e chiamare sua madre ma i detective faticano a credere che ciò sia realmente accaduto. Trovano anche strano che fosse in grado di parlare al telefono con sua madre poiché quando sua zia Ginger era arrivata presso la casa Samantha era imbavagliata e riusciva a malapena parlare. Come ha fatto quindi a comunicare con sua madre in maniera comprensibile? Inoltre c'è un altro fatto strano. Perché Samantha ha chiamato sua madre e non il 911? Suo marito era appena stato picchiato e rapito eppure non ha chiamato la polizia ma sua madre che vi ricordo essere a un'ora di macchina di distanza. La polizia a questo punto riflette anche su come si è presentata a loro la scena del crimine arrivando alla conclusione che sembra una messa in scena. Per cominciare non è presente molto sangue nonostante Samantha abbia affermato che Ernie è stato gravemente picchiato. C'è solo una piccola quantità di sangue su una parete ma se Ernie fosse stato colpito come Samantha ha affermato avrebbe dovuto essere presente una quantità molto più elevata. Inoltre la porta d'ingresso sfondata è stata trovata in casa sul pavimento. Questo indica che gli aggressori erano entrati con la forza. Tuttavia la polizia nota che la serratura della porta d'ingresso è ancora intatta, non è danneggiata. Questo suggerisce che la porta era già aperta quando è stata distrutta. Quindi perché sfondarla? Non potevano semplicemente entrare in casa aprendola? Ecco perché la polizia pensa che la scena del crimine sia stata manipolata. Sembra ci sia stata un'effrazione ma non è andata realmente così. Probabilmente si tratta di un tentativo di insabbiamento. C'è un'altra cosa che la polizia trova davvero strana nella versione di Samantha. Hanno notato che, mentre la interrogavano riguardo a quella notte, lei continuava a fare commenti su come lei ed Ernie avessero una relazione perfetta. Samantha insisteva sul fatto che non litigavano mai, che lo amava tantissimo, che era un ottimo padre e marito. Sembrava che stesse cercando quasi disperatamente di far capire che non ci fossero problemi nella loro relazione, ma la polizia sapeva già che quella era una bugia. Infatti indagando hanno scoperto che l'anno precedente, a metà del 2014, Samantha aveva denunciato Ernie alla polizia per abusi domestici. Era stata lei a chiamarli dicendo che Ernie l'aveva colpita e le aveva lanciato contro una scatola. Secondo la famiglia di Ernie la scatola era di cartone e non le aveva fatto male. Certo non era stato un gesto carino, ma Samantha non aveva riportato alcuna ferita. Gli investigatori trovano davvero strano che durante il suo interrogatorio la donna stesse cercando di convincerli che il loro fosse un matrimonio perfetto, quando chiaramente non era così. Perché cercava disperatamente di far credere che tutto fosse perfetto? Forse sperava che, agendo in questo modo, la polizia non avrebbe sospettato di lei e non avrebbe indagato su un suo possibile coinvolgimento nel rapimento di Ernie. Gli investigatori iniziano a pensare che Samantha sapeva molto di più di quanto ha lasciato intendere. Così gradualmente il colloquio comincia a trasformarsi in un vero e proprio interrogatorio. Samantha lo percepisce. Si rende conto che la polizia non le crede del tutto. Ad un certo punto gli agenti glielo dicono chiaramente. Così, mentre l'interrogatorio prosegue, la donna improvvisamente sembra ricordare qualcosa di importante e inizia ad aggiungere dettagli alla sua storia. Dice che conosce qualcuno che potrebbe essere irresponsabile del rapimento di Ernie. Racconta che durante la visita in ospedale alla sua amica, che aveva appena avuto un bambino, aveva incontrato un ragazzo di nome Johnny Rebel, che conosceva perché erano amici su Facebook. Lei e Johnny avevano iniziato a parlare del più e del meno, arrivando a discutere del marito di Samantha, Ernie. Samantha aveva detto a Johnny di come Ernie fosse stato violento con lei e i bambini in passato. Afferma che Johnny si era arrabbiato, trovando inaccettabile che un uomo trattasse così una donna. Le aveva detto che, se lei avesse voluto, lui non avrebbe avuto problemi a intervenire. Samantha crede che questo Johnny Rebel possa essere uno degli aggressori del suo partner. La polizia riesce rapidamente a stabilire che Johnny è un ragazzo di 25 anni, il cui vero nome è Jonathan Sanford. Era uscito di prigione non molto tempo prima per aver molestato suo cugino, più giovane di lui. La polizia riesce a rintracciare sia lui che un ragazzo che era presente quel giorno in ospedale, Jose Pons, di 26 anni, cognato di Jonathan. Si trovano insieme e stanno nuovamente andando a trovare quell'amica che aveva partorito di recente. Alla vista della polizia cercano di scappare dall'ospedale, ma fortunatamente gli agenti riescono a catturarli e ad arrestarli entrambi. Portati alla stazione di polizia per un interrogatorio, Jonathan ammette di essere colpevole. Sembra che in ogni importi molto delle conseguenze si dimostra collaborativo con la polizia e dice chiaramente che sì, aveva rapito Ernie Ibarra quella notte. La versione degli eventi di Jonathan Sanford è la seguente. Ribadisce ciò che Samantha aveva già detto, affermando di essersi veramente arrabbiato quando lei gli aveva raccontato che Ernie era violento nei suoi confronti. Era così arrabbiato da decidere che non poteva lasciar perdere e non fare nulla. Voleva dare a Ernie una lezione. In ospedale, oltre a Jonathan e Jose, era presente un terzo uomo, Octavius Ryan, anche lui convolto nel rapimento. Jonathan afferma che loro tre volevano aiutare Samantha a vendicarsi di Ernie per come l'aveva trattata. Avevano quindi iniziato a elaborare un piano insieme a Samantha per incastrare Ernie. Avrebbero piazzato delle sostanze illegali nel suo veicolo, poi avrebbero chiamato la polizia affinché venisse arrestato e mandato in prigione. Anche Samantha si era recata con Jonathan, Octavius e Jose ad acquistare la sostanza quel pomeriggio, intenzionata ad andare fino in fondo. Poi Jonathan aveva suggerito Octavius e Jose di cambiare piano. Al posto di posizionare la sostanza nella macchina di Ernie, perché non potevano limitarsi semplicemente a picchiarlo e ucciderlo? Jonathan afferma che, anche in questo caso, Samantha era pienamente consapevole di questo nuovo piano. Aveva chiesto a Jonathan se fosse serio. Lui a questo punto gli aveva detto, se lo vuoi fuori dalla tua vita, per sempre, devi solo lasciare la porta di casa aperta questa sera. Così possiamo entrare per rapire Ernie e ucciderlo. Se invece la lasci chiusa a chiave, ci limiteremo a piazzare la sostanza nel suo veicolo. Cosa ha fatto Samantha quella sera? Ebbene sì, ha tenuto la porta aperta. Così nelle prime ore del 20 febbraio 2015, Jonathan, Jose e Octavius sono andati a casa di Samantha. Erano entrati e si erano immediatamente diretti al piano di sopra, in camera da letto di Samantha ed Ernie. Nonostante il rumore, i bambini non si erano svegliati. Come mai? Jonathan dice alla polizia che i bambini non si sono svegliati perché Samantha li aveva messi tutti in una stanza e gli aveva dato una medicina per farli dormire profondamente. Una volta entrati nella camera da letto della coppia, gli uomini avevano trascinato fuori dal letto Ernie e lo avevano colpito alla testa con la pistola. Poi lo avevano trascinato fuori casa e lo avevano portato via usando la macchina di Samantha. Anche questo particolare era stato accordato con lei in anticipo. Prima di uscire di casa l'avevano legata e lasciata lì in modo da far sembrare che anche lei fosse stata aggredita. I tre uomini avevano poi portato Ernie in una zona boschiva remota nella contea di Camp, in Texas. Una volta arrivati avevano trascinato Ernie fuori dall'auto e lo avevano costretto ad addentrarsi con loro nel bosco. Jonathan afferma che inizialmente i tre uomini erano tutti d'accordo. Lui avrebbe dovuto uccidere Ernie sparandogli alla testa. Una volta nel bosco Jonathan aveva cambiato idea, non voleva più sparargli, bensì pugnalarlo al collo. Ma a un certo punto José si era messo in mezzo e aveva sparato ad Ernie. Stavano ancora camminando nel bosco quando Ernie era inciampato su un rovo cadendo a terra. Jonathan si era chinato per farlo rialzare ed è a questo punto che José aveva sollevato la pistola sparando alla testa di Ernie, uccidendolo sul colpo. José però, interrogato dai detective, nega fermamente di essere stato lui a premere il grilletto e afferma che Jonathan sta mentendo, sostenendo che è stato lui a uccidere Ernie. Jonathan e José si accusano reciprocamente. Ma chi dei due sta mentendo? La polizia sospetta che sia José a mentire. Jonathan ha raccontato tutto subito, ha addirittura confessato che voleva essere lui a uccidere Ernie e a dirla tutta sembrava alquanto infastidito dal fatto che José aveva premuto il grilletto della pistola al posto suo. Dopo l'interrogatorio Jonathan accetta di portare la polizia nell'area boschiva della Contea di Camp dove secondo lui José ha ucciso Ernie. Quando arrivano la polizia individua rapidamente il corpo senza vita, ha indosso solo la biancherea intima e a faccia a terra con le mani legate dietro la schiena, ancora imbavagliato, e presenta molte ferite alla testa. È chiaro che è stato preso a pugni e colpito alla testa con la pistola diverse volte, tuttavia è stata la ferita d'arma da fuoco alla nuca a ucciderlo. Ernie doveva essere terrorizzato quella notte, trascinato fuori dal letto da tre sconosciuti che l'hanno poi portato in mezzo a un bosco. I cari di Ernie sono straziati nell'apprendere quali sono stati i suoi ultimi attimi di vita. La polizia recupera il corpo di Ernie e, mentre gli interrogatori di Jonathan, José e Samantha proseguono, altri agenti si mettono al lavoro per rintracciare il terzo uomo coinvolto in questo crimine, il 28enne Octavius Rimes. Viene trovato e arrestato il 26 febbraio 2015, sei giorni dopo l'omicidio. Durante l'interrogatorio afferma che era presente quella notte quando Ernie è stato ucciso, ma sostiene che non aveva idea che quello fosse il piano. Pensava che lui, Jonathan e José avrebbero semplicemente rapito Ernie, non sapeva che l'avrebbero addirittura ucciso. Ovviamente la polizia non gli crede. Anche Samantha viene arrestata per l'omicidio di suo marito, ma continua ad affermare la propria innocenza. Ad un certo punto, mentre era stata lasciata da sola nella stanza degli interrogatori, aveva scritto sulla lavagna appesa al muro avete trovato mio marito? Anche questo è chiaramente un tentativo di interpretare la parte della vittima innocente, ma la polizia ben presto riesce a ottenere ulteriori prove del suo coinvolgimento. Se ricordate, quando sono iniziate le indagini, la polizia ha immediatamente cercato di localizzare il telefono di Ernie. Erano riusciti nell'intento individuandolo in una zona di Pittsburgh, ma poco dopo qualcuno l'aveva spento. Quando il telefono si era collegato a quella cella, gli investigatori avevano immediatamente chiesto a Samantha se lei o Ernie conoscessero qualcuno a Pittsburgh, dato che avevano motivo di credere che Ernie fosse stato portato lì. Samantha aveva risposto di non conoscere nessuno lì e subito dopo questa conversazione, la donna aveva chiesto ai detective se poteva usare il suo cellulare per comunicare con sua madre e il permesso le era stato accordato. Controllando in seguito i tabulati telefonici, gli investigatori scoprono che non aveva mandato un messaggio a sua madre, bensì aveva contattato Octavius ordinando a lui, Jonathan e José di sbarazzarsi del telefono di Ernie. Il messaggio di testo che Samantha ha inviato è il seguente. Fa sparire il telefono di Dae, spegni quella merda. A quanto pare, Dae è un soprannome che Ernie usava di tanto in tanto. In un altro messaggio inviato a Octavius si legge, lascia perdere il telefono, muoviti. Perché Samantha era in contatto con questi uomini e perché ha chiesto loro di sbarazzarsi del telefono di Ernie se non aveva niente a che fare con quanto è accaduto quella notte? Samantha si è comportata come una moglie sconvolta che sperava disperatamente che la polizia trovasse suo marito. Tuttavia, nel frattempo, inviava di nascosto dei messaggi a Octavius ordinandogli di far sparire il telefono di Ernie per assicurarsi che la polizia non lo trovasse. Samantha ha anche affermato di conoscere Jonathan solo di vista, avendolo incontrato solo una volta all'ospedale in occasione della visita alla sua amica. Aveva infatti dichiarato di aver parlato con lui quell'unica volta. La polizia però riesce a ottenere un filmato di sorveglianza di un Walmart che dimostra che questa è l'ennesima bugia raccontata da Samantha. Nel video si vede Samantha entrare nel Walmart in compagnia dei suoi cinque figli e di Jonathan. Secondo i rapporti della polizia, quel giorno nel Walmart erano presenti anche Octavius e José. Si ritiene quindi che in questo momento il gruppo stesse pianificando l'omicidio di Ernie in presenza dei suoi figli. Di conseguenza Samantha, José, Jonathan e Octavius vengono accusati di rapimento aggravato e omicidio. Nella primavera del 2016, circa un anno dopo l'omicidio di Ernie, José e Jonathan si dichiarano colpevoli e patteggiano. Vengono condannati a 50 anni per ciascuna accusa, quindi in totale dovranno scontare 100 anni dietro le sbarre. È chiaro che passeranno il resto della loro vita in carcere. Octavius e Samantha invece si dichiarano non colpevoli e devono andare a processo. Affronteranno due processi separati, uno per rapimento e uno per omicidio, poiché i crimini sono avvenuti in due luoghi diversi e quindi sotto due giurisdizioni differenti. Ernie è stato rapito a casa sua e quindi entrambi devono affrontare il processo per l'accusa di rapimento a Mount Pleasant. È stato poi ucciso nella contea di Camp, quindi il processo per l'omicidio si dovrà svolgere sotto la giurisdizione di quella contea. Per il rapimento Octavius viene condannato a 23 anni di prigione. Nel dicembre dello stesso anno inizia il processo per l'omicidio e al termine Octavius viene giudicato colpevole e condannato a 75 anni di prigione. Samantha viene processata nel 2017 e continua a dichiararsi innocente. Durante entrambi i processi la difesa sostiene che Samantha avesse preso un sonnifero la notte dell'omicidio e che per questo motivo non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto quella notte, inclusi gli sms inviati ad Octavius. L'accusa però non si arrende, presenta prove schiaccianti per dimostrare Samantha desiderava la morte di Ernie. La scena del crimine manipolata, i messaggi di testo inviati, i filmati di sorveglianza di Walmart che la riprendono mentre entra nel negozio con Jonathan e i suoi bambini. Poco importa che lei dichiari di ricordarsene o meno. Viene chiamato a testimoniare anche Jonathan, il quale conferma il coinvolgimento di Samantha nell'organizzazione del piano. Racconta alla corte che, mentre il gruppo pianificava l'omicidio, Samantha si vantava delle sue doti d'attrice, affermando che sarebbe stata in grado di ingannare la polizia grazie alla sua bravura. Samantha aveva esplicitamente detto ai tre uomini di fare la loro parte, mentre lei si sarebbe occupata della polizia. Credeva di essere più intelligente degli investigatori e di poterli ingannare, ma non è riuscita nell'intento perché le prove contro di lei sono inconfutabili. Rimane tuttavia una domanda. Qual era il movente di Samantha? Perché voleva che suo marito morisse? Samantha ha affermato che Ernie era un marito violento, ma molte persone che conoscevano la coppia hanno negato queste accuse, sostenendo che Ernie non fosse affatto violento e che le accuse di Samantha non fossero veritiere. Molte persone dichiarano che questo poteva essere un tentativo di Samantha di attirare l'attenzione. In realtà il rapporto tra i due era davvero in crisi nel periodo precedente all'omicidio. A quanto pare litigavano spesso perché quando Ernie tornava a casa dal lavoro andava dritto al suo computer per dedicarsi ai videogiochi e questo faceva infuriare Samantha. Ne ha parlato in diversi video sul suo canale YouTube, raccontando il motivo per cui la loro relazione era in crisi. Ernie odiava il fatto che la moglie raccontasse fatti personali su internet a dei perfetti sconosciuti. Secondo lui i loro problemi coniugali dovevano rimanere privati, ma Samantha non rispettava le richieste di suo marito e lui chiaramente si infuriava. Questo aveva causato molte discussioni tra loro perché Ernie era una persona riservata e non voleva apparire sui social media, ma Samantha avarcava costantemente questo confine condividendo i dettagli della loro vita personale online. C'era molta tensione tra loro anche perché Ernie era sempre occupato. Vi ricordo che faceva due lavori per provvedere alla famiglia, mentre Samantha rimaneva a casa tutto il giorno a girare e caricare video su YouTube. Il problema era che il suo canale non era monetizzato e quindi non guadagnava soldi con questa attività. Samantha aveva sviluppato una vera e propria ossessione per YouTube, tanto che secondo la sorella di Ernie la donna aveva smesso di prestare attenzione ai figli. Li aveva messi in secondo piano perché era completamente concentrata sul suo canale. Samantha desiderava disperatamente che il suo canale YouTube decollasse. Voleva ottenere milioni di iscritti, ma il suo desiderio non si stava avverando. Se andate a dare un'occhiata al suo canale potrete notare che ora i suoi video hanno molte visualizzazioni, ma la popolarità a Samantha l'ha guadagnata soltanto dopo l'omicidio e la condanna. Quando si è diffusa la notizia di questo orribile crimine e del ruolo di Samantha, le persone si sono incuriosite e sono andate a guardare i suoi video. Prima dell'omicidio però non ricevevano molte attenzioni, cosa che lei detestava. Samantha voleva la fama, voleva diventare una famosa YouTuber. L'accusa durante entrambi i processi ha sostenuto che Samantha ha pianificato e orchestrato l'omicidio di Ernie con l'intento di ottenere una copertura mediatica considerevole. In questo modo sarebbe stata catapultata sotto i riflettori, attirando l'attenzione del pubblico di YouTube. Tutti si sarebbero dispiaciuti per lei e avrebbero sicuramente mostrato il loro sostegno a una povera e giovane vedova, madre di cinque figli, che ora avrebbe dovuto crescere da sola. Samantha credeva che la scomparsa e l'omicidio di suo marito l'avrebbero resa una star di YouTube. Quindi ha deciso di far uccidere suo marito per ottenere la fama. Personalmente ritengo che sia assurdo che qualcuno possa concepire un piano tanto estremo per raggiungere la celebrità. Questo è uno dei momenti più folli che abbia mai riscontrato nelle mie ricerche per i casi che vi presento qui sul canale. Samantha viene giudicata colpevole di rapimento aggravato e omicidio, ricevendo una pena di 50 anni di carcere per il rapimento e di 99 anni per l'omicidio. Neanche lei, come i suoi amici, uscirà mai più di prigione. Mi domando cosa abbia portato Samantha a pensare di poter sfuggire alle conseguenze dei suoi crimini. Forse credeva che raccontare ai detective quanto fosse perfetta la sua relazione sarebbe bastato per allontanare i sospetti da lei, ma fortunatamente per la giustizia si sbagliava. E questo ci porta alla fine di questo video, che trovo assolutamente folle. Come si fa a uccidere una persona per diventare famosi su YouTube? È folle, non ho mai sentito una cosa simile, onestamente. E chiaramente voglio sapere quali sono le vostre opinioni. Quindi, siete liberi di lasciarmi tutti i commenti che volete, scrivetemi quello che sentite, le vostre sensazioni, le vostre emozioni, cosa provate. E sono curiosa di leggervi ovviamente tutti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!